. Ecco l'elenco dei convocati per la preparazione precampionato. Alberto Giuà . Alberto Giuà . Rimini il Rimini F comunica di aver perfezionato l'accordo, per la stagione sportiva 2017-18, con i difensori Alberto Giuà e Andrea Mingucci, entrambi classe 98 e cresciuti nel settore giovanile bianco-rosso. . 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 Giada Giacomo, 1999, confermato. Colla Claudio, 1986, confermato. Diadario Alessandro, 1997, pianese. Gabrielli Mattia, 1996, confermato. Gio Alberto, 1998, confermato. Maggioli Manuel, 2000, Fiariccione. Mazzavillani Francesco, 1998, Romagna Centro. Mingucci Andrea, 1998, Matelica. Perazzini Diego, 1999, San Marino. Vesi Marco, 1992, Forlì. Centrocampisti. Albini Filippo, 2000, confermato. Bertani Romeo, 1999, Bacchia Cesenatico, aggregato. Dormi Lorenzo, 1995, Savignanese. Fanini Marcio, 2000, aggregato, svincolato. Guebre Abdul Razak, 1997, confermato. Montanari Andrea, 1987, Virtus Castelfranco. Pasquini Alessandro, 1998, Romagna Centro. Righini Luca, 1990, confermato. Valeriani Luca, 1991, confermato. Attaccanti. Ambrosini Alex, 1986, Imolese. Amaducci Alessandro, 2000, Fiariccione. Arlotti Scott, 1999, confermato. Buonaventura Alex, 1986, confermato. Cicarevix Sasa, 1994, confermato. Pilitteri Antonino, 1999, aggregato, svincolato. Protino Pietro, 1999, Fiariccione. Simoncelli Daniele, 1989, Alto Vicentino. Tompteleo Einae, 1999, in attesa di tesseramento. Alessandro, 2000, Fiariccione.